Il colosso della difesa italiana Leonardo sta per rivoluzionare i cieli con il suo nuovo velivolo senza pilota, il Falco Explorer, con la sua capacità di operare a media altitudine per lunghi periodi e i suoi potenti sensori. Questo UAV sfida i suoi rivali nelle missioni di ricognizione, sorveglianza e intelligence. Il nuovo osservatore d'elite dell'Italia, il Falco Explorer, potrebbe davvero diventare una piattaforma strategica tanto critica quanto l'Eurofighter Typhoon. Grazie ai suoi radar avanzati, ai sistemi elettroottici e alle moderne apparecchiature di comunicazione. È candidato a diventare uno degli attori più intelligenti sul campo di battaglia. Prima di iniziare il video, se ti piacciono questi contenuti, iscriviti al nostro canale e lascia un like per supportarci. Se sei pronto, cominciamo! Il Falco Explorer, sviluppato da Leonardo, è un velivolo a pilotaggio remoto. UAV di media altitudine e lunga autonomia, male, medium altitude e long endurance. Questo sistema rappresenta una delle piattaforme di ricognizione e sorveglianza più avanzate dell'industria della difesa italiana ed è ottimizzato per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ISR. Il design del Falco Explorer ricorda quello dei tradizionali UAV male. Ha una fusoliera lunga e sottile, con ali dritte e allungate che garantiscono un'elevata efficienza aerodinamica. L'apertura alare è di circa 18,5 metri, mentre la lunghezza della fusoliera è di circa 9 metri. Il velivolo presenta una coda AV, una scelta progettuale che riduce la resistenza aerodinamica e migliora l'efficienza del volo. Inoltre, è dotato di un carrello di atterraggio convenzionale, che gli permette di decollare e atterrare da normali piste aeroportuali. Il Falco Explorer è progettato per operazioni moderne di ricognizione, sorveglianza e intelligence, ISR. Dotato di sensori all'avanguardia, sistemi di elaborazione dati basati sull'intelligenza artificiale e un'infrastruttura di comunicazione avanzata. Questo UAV si distingue soprattutto per le sue capacità militari e di sicurezza. È equipaggiato con sofisticati sistemi radar ed elettroottici per il monitoraggio del campo di battaglia. Ecco i principali sensori e sistemi di sorveglianza integrati nel Falco Explorer. Telecamera elettroottica barra infrarossi. EOR fornisce immagini ad alta risoluzione sia di giorno che di notte. Radar ad apertura sintetica. SAR, Sintetic Aperture Radar permette l'identificazione degli obiettivi e la mappatura del terreno. Anche in condizioni meteorologiche avverse. IS, sistema di identificazione automatica, monitora il traffico marittimo e identifica le imbarcazioni. SIGINT, Signal Intelligence e COMMINT. Communication Intelligence intercetta i segnali elettronici e analizza le comunicazioni nemiche. Questi sensori lavorano in sinergia con software avanzati basati sull'intelligenza artificiale, permettendo il rilevamento automatico dei bersagli e l'analisi dei dati raccolti. Il Falco Explorer è dotato sia di sistemi di comunicazione satellitare, SATCOM che di comunicazione in linea di vista, Lost Line of Sight. Comunicazione satellitare. SATCOM. Permette il controllo remoto su scala globale e garantisce la trasmissione di dati in tempo reale alla stazione D. Controllo a terra. Collegamento dati a banda larga. Assicura un trasferimento rapido delle informazioni. Trasmettendo immagini e dati radar in tempo reale. Raccolta dati supportata da radar ASA, grazie ai radar a scansione elettronica attiva. ASA, è in grado di monitorare vaste aree e analizzare minacce in tempo reale. Questi sistemi consentono al velivolo di operare senza interruzioni anche in zone remote. Fornendo intelligence in tempo reale ai centri di comando durante le operazioni militari. Il Falco Explorer è inoltre dotato di una capacità di volo completamente autonoma. Può seguire rotte predefinite o essere controllato direttamente dalla stazione a terra. Pianificazione delle missioni supportata da intelligenza artificiale. Migliora l'efficacia operativa grazie al riconoscimento e al tracciamento automatico dei bersagli. Avanzato sistema di controllo del volo. Utilizza algoritmi intelligenti per garantire stabilità anche in condizioni atmosferiche, turbolente o avverse. Modalità di emergenza. Dispone di sistemi che gli consentono di atterrare in sicurezza in caso di perdita di comunicazione o guasti al motore. Attualmente, il Falco Explorer è stato sviluppato come velivolo senza armamenti. Destinato a missioni di ricognizione e intelligence. Tuttavia, si ritiene che Leonardo abbia progettato questa piattaforma con la possibilità di essere armata in futuro. Confrontato con altri UAV della stessa categoria. Il Falco Explorer sembra idoneo all'integrazione di munizioni leggere. Il Falco Explorer, uno dei più avanzati UAV sviluppati da Leonardo. Offre un grande potenziale sia per usi militari che civili. Progettato per operazioni ISR a lungo raggio. Questa piattaforma fornisce un vantaggio strategico nei moderni scenari bellici. Grazie ai suoi sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Alla tecnologia di comunicazione avanzata e ai suoi potenti sensori. Ecco il Falco Explorer, il drone sviluppato dal colosso della difesa italiano Leonardo. Con i suoi sensori avanzati, la lunga autonomia di volo e le moderne capacità di intelligence. Si afferma come un nuovo protagonista nei cieli. Secondo voi, quanto potrà essere efficace questo UAV nei futuri scenari di guerra? Scrivete le vostre opinioni nei commenti. Se vi è piaciuto il nostro video, supportateci con un like. Inoltre, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altri contenuti su tecnologia militare e industria della difesa. Ci vediamo nei prossimi video. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.